All'indomani del primo turno delle elezioni francesi, in vista del ballottaggio, io mi pongo una domanda. Che cosa farei io, domenica prossima, se dovessi votare in Francia? Io sono un moderato, un riformista, diciamo per semplificare un macroniano. Non mi piacciono le ricette che la destra propone, né in Francia e neppure in Italia, ma non perché penso che siano fascisti, pericolosi, ma solo perché penso che sbagliano, che so, a chiudersi nei confini nazionali, ad alimentare un sovranismo che secondo me non ha senso nel mondo globale, perché spesso hanno un atteggiamento un po' arretrato sui diritti sociali, civili, insomma non guardano avanti a un mondo che è del tutto trasformato e che noi dobbiamo fare comprendere alla gente senza sfruttare cinicamente le legittime paure degli elettori per prendere qualche voto in più. Ma il punto non è questo, il punto è che se io fossi un elettore francese per non far vincere l'Alepain domenica prossima dovrei votare qualche candidato di una sinistra davvero pessima, che in Francia è esplicitamente antisemita, propone l'uscita dalla Nato, è euroscettica, è per nazionalizzare l'economia, è per politiche di redistribuzione e non di sviluppo, insomma per me quanto di peggio. E dunque domenica io certamente non andrei a votare per un'alleanza tra idee e programmi molto contrastanti tra loro, quella che nascerà tra i macroniani e la sinistra e non penso che si debba votare per evitare che la destra vada a governare. Questo è molto sbagliato, perché se la gente ha votato massicciamente per l'Alepain è giusto che l'Alepain governi senza che gli altri si oppongano con questa alleanza forzosa e innaturale, realizzata solo perché il cosiddetto nemico è alle porte. Meglio per quello che mi riguarda coltivare le mie idee di minoranza schiettamente riformiste invece che buttarmi tra le braccia di Mélenchon, se fossi un elettore francese, poi per fortuna non lo sono e quindi il problema non ce l'ho.